Alvia, oggi il forum internazionale dell'UNESCO a Firenze si parla di tecnologia, beni culturali e si aprono nuove prospettive. Sì, è un grande momento. L'UNESCO ha scelto Firenze per questo grandissimo momento di discussione. Saranno presenti delegazioni da tutto il mondo. Ci interroghiamo su come la cultura può essere al centro di un rilancio economico inclusivo e sostenibile per il nostro pianeta, nelle differenze culturali dei vari paesi e nelle diverse necessità che ci sono sui vari territori. La regione toscana ha 7 siti UNESCO sui 49-50 italiani. L'ultimo è stato iscritto da poco, i Giardini e le Ville Medice. E' per noi una sfida importantissima per interrogarci su come gestire queste risorse, su come farle diventare sempre più strettamente collegate con le nostre comunità e come fare di tutto questo un miglioramento della qualità della vita. Sostenibilità a che proposito? Sostenibilità in tutti i sensi. Partire dalla cultura e dal rispetto dei beni culturali, del nostro patrimonio culturale, significa interrogarci su uno sviluppo economico che rispetta le comunità, rispetta l'ambiente, rispetta il paesaggio e tutto questo porta valore al territorio. Quindi non un modello economico che sostanzialmente è calato dall'alto e tende a standardizzare, ma le comunità che si interrogano come valorizzare le loro principali risorse. E questo è sostenibile in quanto parla del nostro quotidiano, parla delle nostre tradizioni, della nostra storia, di come migliorare e rendere moderno tutto questo per condividerlo con gli altri ma senza snaturarlo.